Una sconfitta totalmente immeritata. Io penso che la squadra sia venuta qui per fare prestazione, come avevamo preparato, per andare a aggredire alti, andare a giocare a calcio nel momento in cui ne avevamo l'opportunità. Certo, in qualche circostanza abbiamo sbagliato qualche appoggio, qualche verticalizzazione che ci poteva dare là per ripartire in maniera migliore, però abbiamo tenuto sempre il campo stando rimanendo alti, concedendo pochissimo. Abbiamo avuto l'opportunità sullo 0-0 per passare in vantaggio e poi dispiace perché in un certo senso qualche decisione non ci è piaciuta, perché in un momento topico della partita c'erano stati due o tre falli in uscita che potevano permetterci di risalire, di guadagnare campo, invece un fallo su Bogdani e ne è nato il gol del vantaggio loro. E sull'episodio del rigore sono due situazioni che sicuramente, diciamo un po' così, c'è il rammarico perché la prestazione non meritava di questi tipi di situazioni e di soluzioni. Nonostante questo la squadra ha continuato a giocare, ha tenuto il campo, ha accorciato le distanze e fino in fondo abbiamo provato a pareggiare, ma d'altronde questa deve essere la nostra mentalità, il nostro spirito in tutte le partite, andando alla ricerca dei tre punti e cercando di fare qualche vittoria consecutiva, questo ci potrà permettere, solo questo ci potrà permettere di agganciarsi al treno salvezza. La cosa che le piacere di più è quel fattore invece su cui c'è ancora da insistere nel lavoro? Lo spirito della squadra, l'organizzazione, andare a aggredire altri senza mai rinunciare a essere passivi, bassi, dare campo agli avversari, anche se venivamo qui a San Siro a giocare. C'è da lavorare ancora nel momento in cui entriamo in possesso palla, nell'essere più bravi nella gestione della palla, negli ultimi 30 metri, nell'ultimo passaggio, nella verticalizzazione, in queste cose dobbiamo lavorare, perché solo così possiamo creare ancora più pericoli dalle squadra avversari. Ministero, abbiamo visto Filippo con un occhio nero. Non so se c'è stato un duello, un aggomitato o qualcosa. Lui ha detto che l'ho presa, ma nel calcio si danno e si prendono, non è quello il problema. Sono più rammaricato per l'episodio in cui Filippo è rimasto coinvolto del rigore, perché lì onestamente è stato sicuramente furbo e bravo Giampaolo Pazzini, perché magari è andata alla ricerca di un qualcosa in più di quello che magari poteva essersi su quello sviluppo dell'azione. La difesa 3 è piaciuta, è compatta la squadra, un peccato, insomma c'è la possibilità di salvarsi, in questa squadra si vede. La squadra è rimasta organizzata, ha fatto la sua partita, come ho detto, noi dobbiamo ricercare attraverso l'organizzazione, la mentalità e lo spirito di fare prestazioni di questo tipo, andando a migliorare di settimana in settimana il lavoro, perché dobbiamo alzare l'intensità sempre nei 90 minuti, andare ad allungare questo tempo di gara e quindi più manterremo alti questi ritmi e più riusciremo a fare prestazioni importanti e nello stesso tempo andare a lavorare su miglioramenti che abbiamo detto prima, sugli ultimi 30 metri e quindi essere più bravi nella lettura dell'ultimo passaggio. Aveva chiesto personalità, questa c'è stata e adesso bisogna andare a fare punti a Torino e poi con calma, gara dopo gara, affrontarla sempre al massimo. Esatto, noi dobbiamo continuare senza guardare gli altri, il nostro campionato è questo, quindi sapere che dobbiamo andare su tutti i campi, in casa o fuori casa, per ricercare i tre punti, andando a migliorare le cose dove sappiamo che possiamo ancora avere margini di miglioramento e solo così possiamo avere l'opportunità e la possibilità per andarci a ritagliare ancora per accorciare ancora questa classifica, quindi senza essere rinunciatari, senza essere passivi, ma andando a fare la partita, andando a giocarcela nella maniera giusta.